Credo che si poteva andare ad elezioni tra qualche mese in modo più dignitoso, rassicurando i nostri partner europei, ma soprattutto i nostri cittadini, che nella prossima legislatura i prossimi governi manterranno quella roadmap disegnata in questi mesi e presentata al Senato dal Presidente Draghi, che raccoglie tutti i punti critici con impegni presi per migliorare il nostro Paese e utilizzare al meglio i fondi europei. Ecco, su questo penso che tutte le forze politiche abbiano il dovere oggi di rassicurare mercati, Paesi europei, soprattutto le nostre imprese, che quella roadmap verrà mantenuta e ci sarà serietà, anche perché stanno crescendo le preoccupazioni anche oltre i nostri confini nazionali. Credo molto nella democrazia e quindi mi auguro proprio che questa campagna elettorale corra sul filo di una responsabilità, perlomeno rispetto alla nostra credibilità.